Salve a tutti ragazzi, io sono il Rusher e mi pare strano rimettermi davanti a questa webcam a fare video dopo tre mesi che avrei dovuto abbandonare, però oggi è successa una cosa, cioè oggi, in questi giorni è successa una cosa che è da tanto che sognavo che accadesse, anche se comunque la vedo come una cosa negativa perché dopo che uno youtuber ha abbandonato il proprio canale di youtube e ha detto che non avrebbe più fatto video, continuare a iscriversi al suo canale è poi una presa per il culo, però comunque io sono diciamo contento di questo traguardo che ho raggiunto anche se effettivamente non serve a molto, comunque io volevo ringraziarvi perché qualche giorno fa sono riuscito ad arrivare alla cifra di 1000 iscritti, una cifra che fino a due anni fa neanche mi sognavo di avere, anche se comunque ho abbandonato youtube, non sto più partecipando attivamente al mio canale della community, sono comunque contento di questo traguardo che comunque continuate a vedere i miei video, a commentarli, a iscrivervi al canale, lo appresso veramente molto, forse questo potrebbe essere anche un motivo per spronarmi a rimettermi a fare video, non ne sono sicuro, però devo vedere come vanno le cose, poi ultimamente mi sto anche assemblando un pc, un pc qua per giocare, lo sto assemblando, appena ho i soldi lo termino, ho già tutto, mi manca soltanto il processore della scheda video, e forse diciamo che questo pc nuovo mi darà la voglia di fare video, non lo so, comunque io vi ringrazio moltissimo dei 1000 iscritti, vi ringrazio moltissimo del supporto che mi state dando anche se ho abbandonato il progetto che ho iniziato di youtube, comunque ne sono riconoscente, niente ragazzi, spero che in futuro ricomincerò a fare video, non è una cosa sicura, io spero che si, grazie di tutto ancora, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi